Bella a tutti ragazzi, qui Agheemelle ed oggi siamo qui in questo nuovo video. Come vedete sono tornato dal mare e oggi vi porto un video in cui vi annuncio che faccio account moddati per GTA V e Playstation 3. Allora, io i primi 5 account che farò, li farò gratis. Quindi i primi 5 fortunati che mi contatteranno o su Skype o su Facebook avranno un account gratis. Quindi dovete iscrivervi e mettere mi piace anche la pagina Facebook. Ma tranquilli ragazzi, anche gli altri, diciamo chi non farà in tempo, verso i 400 iscritti ci sarà un contest da ben 5 account moddati. Il primo, chiaramente sarà l'ango 500 e 400 milioni. Poi, che ne so, l'ultimo sarà l'ango 120 e meno soldi. Però sempre buoni, eh, ragazzi. Oggi vi dico che inizio a fare account moddati per GTA V e Playstation 3, non gratis. Ma voi potete pagarmi o con ricariche PSN da 5 euro. 5 euro, ragazzi, sono pochi per quello che ottenete perché se andate a comprare le Shark Card, come si chiamano, spendete una barocciata. O ricariche telefoniche Team. Io, ragazzi, preferirei le ricariche PSN perché così vi posso portare nuovi contenuti. Perché forse la Rockstar metterà DLC a pagamento e quindi con le ricariche PSN si possono acquistare. Quindi, ragazzi, trovate tutto sotto in descrizione. 5 fortunati vinceranno l'account moddato, i primi che mi contatteranno. Poi, più avanti, per i 400 iscritti, un gran contest, volevo fare per i 1000 iscritti. Davvero, sto pensando in grande. Vi ringrazio innanzitutto per i 300, quasi 50 iscritti. Davvero, ragazzi, un buon risultato per me. Scusate per la mia inattività per una settimana. Ma da domani rinizierò a portarvi video su video su video. Ogni giorno. Vi ricordo di passare dal canale di Spartacus Wars e di Asso. Vi lascio il link in descrizione. E da GameL è tutto. Ci vediamo nei prossimi video. Bella! Ciao!